slide col titolo del nostro incontro sapete che oggi parleremo di un artista chiavarese Luigi Buder e il titolo che ho voluto dare è Luigi Buder la magia del legno e la scoperta del colore un personaggio davvero un artista davvero molto molto singolare e profondamente legato al nostro territorio vi spiegherò poi alcune cose sul suo carattere sulla sua vita e io volevo aspettare appunto che andasse in onda la prima slide col titolo dell'incontro ecco vedete l'intarsio la magia del legno e la scoperta del colore Luigi Buder passiamo alla slide successiva dove abbiamo subito una foto di questo artista ecco vedete non so se qualcuno di voi si ricorda di averlo visto si ricorda di averne sentito parlare questo era Luigi Buder guardate vi dico subito che vedremo questa foto che è la foto iniziale e un'altra sua foto che è quella che chiuderà poi la sequenza delle foto delle sue opere e queste due foto che vediamo sono le uniche foto che esistono di lui le uniche due foto che gli sono state scattate perché era veramente un personaggio molto molto particolare non voleva assolutamente che nessuno lo fotografasse questa foto gli è stata gli è stata presa da il titolare del bar Pippo perché si trova lui in questo momento all'interno del bar Pippo si chiama si chiama ecco questo signore Nini Bacigalupo erano molto amici l'aveva fotografato di nascosto attraverso un buco nel giornale cioè facendo finta di leggere il giornale ha fatto un buco nel giornale e ha fotografato Luigi Buder in questo in questo in questa espressione ma lì in questa espressione c'è tutto Buder perché Buder era così chi a Chiavari ha avuto l'opportunità di conoscerlo di vederlo qualche volta da bambino e da ragazzino mi ricordo di averlo intravisto anch'io per le strade di Chiavari era proprio così portava il capotto quasi tutto l'anno per nove mesi all'anno portava sempre il capotto durante l'estate la sua il suo indumento più leggero era il maglione con la sciarpa e durante tutta la sua vita sempre indossato questa specie di di basco ecco di coppola di berretto ecco dunque un personaggio molto particolare della sua biografia si sa pochissimo nasce a Taranto nel 1900 non sappiamo esattamente quali siano le origini della sua famiglia lo troviamo a Chiavari ragazzino insomma arriva Chiavari che aveva un'età tra i 10 e i 15 anni e vive poi 15 anni all'incirca e vive poi tutto il resto della sua vita a Chiavari dove scompare appunto nel 1984 Luigi Buder nasce dal punto di vista professionale come costruttore di violini cioè come gli utaio ne fa moltissimi durante il periodo giovanile poi da un certo punto in poi si dedica ad un altro tipo di arte anche se continua sempre molto più raramente a fare lo stesso qualche violino però la costruzione dei violini appartiene proprio ad una fase più giovanile della sua vita quando arriva Chiavari dato che è molto bravo a lavorare il legno ecco in questa attività di artigianato del di lavorazione del legno è molto bravo viene lavora viene assunto dalla falegnameria Zucchi che si trovava non so se esiste ancora credo di sì presso della zona di Chiavari tra San Perdicano e Rostio ecco c'era questo grossa falegnameria e lui viene assunto lì per intarsiare i mobili e comincia come intarsiatore di mobili ed è molto bravo riscuote subito molto successo tant'è vero che adesso vi faccio un escursus molto breve prima di passare alle foto questi intarsi sono così gradevoli così piacevoli che cominciano a commissionarli questi intarsi non come decorazione di comodi credenze ma come quadri e come opere d'arte vere e proprie quindi dedicherà da un certo momento in poi gran parte della sua vita all'arte della tarsia che è un'arte molto molto particolare e molto laboriosa molto raffinata eccetera a un certo punto della sua vita quando diventa più anziano comincia ad avere dei problemi con la vista e dato che la realizzazione delle tarsie per il tipo di lavorazione che richiede necessitava di una vista molto buona abbandona gradualmente le tarsie per dedicarsi alla pittura dell'olio su tela una pittura anche questa molto molto particolare luigi buder vi dicevo della sua biografia sappiamo molto poco era un personaggio molto particolare vive tutta la sua vita tormentato da un fantasmi interiori da angoscia interiori una personalità oggi diremmo fortemente disturbata dal punto di vista proprio psichico anche psichiatrico soffriva di una forma allucinatoria persecutoria proprio perché era rovellato da dei tormenti ecco interiori e non se ne è mai liberato durante tutta la sua vita queste sono notizie che sono state raccolte dai testimoni che l'hanno conosciuto ognuno ha raccontato un pezzo di lui testimoni chiavaresi sono state poi raccolte in un bel libro di guido lombardi che si chiama l'intarsiatore ecco dove in modo molto poetico e empatico descrive proprio la vita di questo personaggio lui vive innanzitutto un carattere molto schivo molto riservato e molto introverso e anche cupo proprio perché era ossessionato da queste presenze lui diceva sosteneva in poche parole ecco ve lo riassumo brevemente proprio per farvi capire con che tipo di personalità abbiamo a che fare sosteneva che c'erano dei persuasori occulti delle presenze che lui chiamava i radieri e lo scriveva a volte sul retro delle sue tele che cercavano di perseguitarlo in tutti i modi di capire quali erano i suoi pensieri di modificare i suoi pensieri di fargli dimenticare i suoi pensieri ecco e questi erano i radieri questi persuasori occulti che lo che lo perseguitavano che lo seguivano pensate che all'interno di questo cappello di questa coppola di questo cappello che vedete che lui non si è mai tolto dormiva anche con questo cappello all'interno aveva fatto cucire una striscia di rame perché diceva che questa striscia di rame costituiva una protezione contro le radiazioni perché questi radieri mandavano delle radiazioni che avevano come finalità quella di rubargli pensieri di rubargli le idee questo per dirvi poi lui gli amici che avevano erano tutti legati al all'ambiente dei farinotti delle osterie e dove si recava mangiare o delle negozi dove si recava comprare e lui viveva in piccoli alloggi situati nel centro storico di chiavari il penultimo alloggio era in via bighetti l'ultimo alloggio dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita era in via rivarola sopra il negozio che ancora c'è attualmente di triperia in via rivarola chiavari erano degli alloggi molto piccoli dove lui nell'alloggio di via bighetti non aveva la luce si aveva semplicemente una torcia una lampadina elettrica il gas e la cucina non l'ha mai avuto cucinava con un fornelletto a spirito come usava una volta e mangiava spesso in questi farinotti da dino da luci indaba i ciotto eccetera oppure andava a comprare dei cibi già pronti ma per dirvi molti negozianti di quel tempo che ricordano di averlo conosciuto tutti raccontano che lui comprava per esempio tantissime bottiglie di acqua minerale comprava tantissime uova e controllava meticolosamente l'esterno della bottiglia e l'esterno dell'uovo e se vedeva che sulla bottiglia sulla plastica o sul della bottiglia o sulla sul guscio dell'uovo c'era un piccolo puntino non lo comprava se se ne accorgeva quando era arrivato a casa lo riportava indietro perché diceva che questo puntino era la traccia che i radieri avevano lasciato perché erano stati mandati per cercare di inserire qualcosa nella bottiglia o nell'uovo in maniera tale da avvelenarlo ecco questo per dirvi vi racconto queste cose ecco proprio ecco per farvi capire la grande il tipo di personalità e la grande sofferenza di quest'uomo che per tutta la vita è stato tormentato da questi fantasmi interiori e nonostante questo come vedrete è stato capace di creare veramente delle opere d'arte Luigi Buddha non si sposterà mai da Chiavari quindi viene definito è stato definito da non si sposterà mai da Chiavari durante la sua vita proprio a causa di questi di queste sue problematiche e a causa del suo carattere molto riservato e molto schivo accetterà di esporre le sue opere in occasioni molto molto rare si ricordano due esposizioni nel 1969 nel 1970 in una galleria d'arte che ora non esiste più che a quell'epoca apparteneva a Felice Sabadini il ora al posto della galleria c'è il negozio d'arte Sabadini che diciamo è gestito dal figlio di Felice Sabadini accetta due volte nel 69 nel 70 di esporre le sue tarsie ecco su invito di questo di questo amico e non ci sarà quasi nessun'altra esposizione finché lui sarà in vita una grossa mostra ontologica gli viene organizzata poi quando a poco a poco si scopre si scopre il grande valore di questo artista gli viene organizzata postuma dal comune di Chiavari nel 1998 a Palazzo Rocca esiste un bel catalogo con una prefazione scritta da Gianfranco Zappettini che come sapete è un pittore di Chiavari di fama ormai nazionale internazionale famoso per l'arte analitica eccetera e scrive un bel articolo su Luigi Buder definendolo genius loci cioè un genio del luogo legato proprio al luogo perché al di fuori di Chiavari Buder non andrà mai e quindi sarà poco conosciuto e tuttora è poco conosciuto al di fuori di Chiavari e viene paragonato in questo testo critico scritto da Gianfranco Zappettini viene paragonato un po' con le dovute differenze ad un pittore francese Henri Rousseau conosciuto come il doganiere Rousseau che diventa famoso in Francia tra la fine dell'ottocento e i primi del novecento anche lui come Buder era un pittore tra virgolette della domenica un'autodidatta uno che non aveva mai frequentato nessuna scuola nessuna accademia che però presenta a un certo punto un tipo di pittura che riscuote l'entusiasmo e l'approvazione dei suoi colleghi artisti intellettuali dell'epoca diventa quindi un caso che diventa poi un caso nazionale internazionale questo Henri Rousseau Buder ha un tipo di pittura un po' per certi aspetti simile a quella di Buder Rousseau diventa famoso perché vive a Parigi tra la fine dell'ottocento e i primi del novecento Buder ecco diventa famoso a Chiavari ma non molto più lontano perché vive a Chiavari e perché non è Rousseau perché è Buder anche lui rimane lontano da tutte quelle che sono le correnti artistiche degli anni 50 60 70 porta avanti un discorso artistico tutto personale anche se a modo suo intreccia delle relazioni e dei rapporti con i pittori locali per esempio vi ricordate che durante il precedente incontro abbiamo parlato del MAC del movimento arte concreta qui avevano aderito Bartolomeo Sanguinetti Vittorio Golini Rodolfo Costa e Luiso Sturla bene con loro si incontrava spesso dal bar de Filla e sempre in modo un po' appartato ecco scambiava comunque alcune parti della conversazione infatti ecco qualcosa del MAC vedremo qualcosa si ritrova nelle sue opere vi dicevo dal punto di vista della biografia non vi posso dire molto di più se non che lui realizza gli viene commissionata non so bene attraverso quali vi è una grande importante tarsia per decorare gli interni del dell'Andrea Doria vi ricordate il famoso transatlantico che poi affonda se non sbaglio nel 1956 nell'oceano atlantico quindi una grande tarsia che arredava proprio uno dei saloni dell'Andrea Doria e opera di Luigi Buder sulla storia sua personale e sulla storia della sua famiglia si sa solo quello che lui raccontava c'è una diceria che non si pensa sia una diceria una leggenda a Chiavari in cui chi l'ha conosciuto racconta che pare che appena arrivato a Chiavari in età molto giovane 20 20 anni abbia avuto una una compagna una fidanzata dalla quale qualcuno racconta avesse avuto due figli si pensa che sia più leggenda che non storia se anche fosse vero questi due figli non hanno mai saputo di essere figli di Buder perché in caso contrario si sarebbero fatti avanti nel momento in cui lui è diventato famoso a Chiavari e le sue opere hanno cominciato ad avere un certo valore lui della sua famiglia parlava solo di una sorella che si chiamava Gemma che aveva avuto sette figli era morta molto giovane in seguito anche a tutte queste gravidanze agli stenti che aveva dovuto subire sopportare infatti Buder non parlava molto bene del cognato e parlava di un nipote uno di questi figli di sua sorella che era morto durante la seconda guerra mondiale nella fondamento della corazzata Roma vi ricordate questo è un episodio ecco per noi che abbiamo studiato la seconda guerra mondiale il il 9 settembre del 1943 esattamente il giorno dopo l'armistizio questa corazzata Roma che si trovava a largo della Sardegna nei pressi dell'isola della Sinara viene affondata da un bombardiere tedesco e tutti i marinai presenti sulla corazzata più di mille giovani ecco scompaiono e sono caduti e scomparsi in mare tra questi vi è un nipote di Buder mi direte cosa c'entra questo con la sua arte non c'entra niente e solo perché dal punto di vista biografico posso dirvi molto poco questa era una storia che Buder la raccontava spesso e la raccontava con con dovizia di particolari probabilmente era stato colpito con questo nipote può darsi che avesse un rapporto affettivo più intenso rispetto agli altri ecco mentre di moglie di compagne lui non ha mai parlato di questa sorella Gemma con questi sette figli di questo nipote ne parlava spesso bene questo per quanto riguarda un po' l'inquadramento del biografico ecco l'inquadramento della sua personalità io passerei a questo punto a vedere le immagini successive stiamo andare avanti ecco vedete questo è un comò intarsiato da Buder qui siamo proprio scusate agli inizi della sua attività quando arriva Chiavari quando lavora presso la falegnameria Zucchi ecco gli venivano commissionati questi mobili e lui intarsiava vedete qua ci sono i cassetti intarsiati con dei motivi floreali di farfalle di fiori di frutti poi li vedremo meglio anche nelle immagini successive e anche sul ripiano del comò c'è un disegno particolare questi è un'opera di Buder andiamo avanti il comodino della stessa camera vedete con gli stessi motivi e lo stesso tipo di intarsio mi spiace che la foto non rende tantissimo perché non è a colori però adesso andiamo avanti e vi voglio far vedere alcuni particolari questo è l'altro comodino che sembra uguale ma non è uguale perché i motivi decorativi sono posizionati in modo diverso e sono scelti in modo diverso nell'immagine successiva vedremo un particolare di questo intarsio ecco vedete ecco se riuscite a distinguere quale immagini vedete già proprio un gusto una sensibilità e una finezza particolare c'è una farfalla due farfalle tre farfalle scusate ci sono dei fiori ci sono dei frutti perché in alto a destra se vedete c'è una ciliegia ci sono dei piccoli ramoscelli delle reti delle piccole retine ecco veramente una trama molto molto fine Buder comincia così come vi dicevo questo tipo di intarsio lo fa sui comò sui comodini nei pannelli negli sportelli delle credenze per le sale da pranzo eccetera a un certo punto ecco piacciono talmente tanto che qualcuno comincia a commissionargli indipendentemente dalla manifattura di un mobile glieli commissiona proprio come quadri come opere da appendere e così nasce l'attività di Buder come tarsia e come l'intarsiatore comincia a dedicarsi alla tarsia ne vediamo subito una passando alla slide successiva ecco vedete questa è una tarsia molto molto bella secondo me innanzitutto vi devo dire riguardo alle tarsie che richiedono un lavoro veramente certosino perché vengono realizzate attraverso una procedura molto complessa e molto laboriosa intanto vengono usati tantissimi tipi di legno qui localmente in Liguria gli intarsiatori usavano prevalentemente il legno di alberi da frutta l'arancio il limone il ciliegio e l'ulivo il ciliegio in particolare ha una tonalità molto calda e molto particolare poi venivano usati dei legni anche più pregiati come l'ebano il bosso il tasso il palissandro per vedete qui c'è una tarsia fatta di tanti legni diversi e non c'è nessun colore anche se sembra colorata perché il colore veniva veniva ottenuto usando tipi diversi di legno tra l'altro il legno ora io non vi voglio spiegare anche perché non lo conosco neanche io molto bene il procedimento tecnico attraverso il quale veniva realizzata una tarsia ma so che il legno andava tagliato in fogli molto molto sottili ecco che andavano poi ad attaccarsi come le tessere di un mosaico uno a fianco all'altro e uno sopra l'altro venivano usati delle colle dei mastici particolari ma era un lavoro veramente certosino per esempio per ottenere il nero vedete che qua il manico del violino e la bottiglia sembrano neri si usava per esempio per ottenere questo effetto di nero la quercia che veniva immersa nell'acqua il legno della quercia che veniva immerso nell'acqua e veniva lasciato un certo tempo nell'acqua finché non diventava scuro e si otteneva allora la colorazione nera per realizzare per esempio l'effetto della luce e quindi avere un legno molto molto chiaro che desse un effetto luminoso si usava l'acero quindi era un'arte veramente che richiedeva un lavoro molto molto intenso veramente complesso e veramente certosino ora qui vedete ci sono alcuni elementi che sono tipici del repertorio iconografico di Buder innanzitutto lui amava molto la musica vi dicevo è nato come liutaio e spesso gli strumenti musicali fanno parte vengono sono soggetti delle sue opere qui vedete che c'è un violino la farfalla vedete la farfalla l'avevamo ritrovata nella tarsia che decorava i comodini di prima poi la bottiglia ecco vedete la frutta abbiamo nella parte inferiore della tarsia c'è l'uva e poi ci sono due albicocche e dietro il vaso se riuscite a scorgerla c'è una pera le albicocche e le pere ecco sono elementi ecco che nelle nature morte per così dire di Buder sia nelle tarsie che nei dipinti ritornano ecco scusate ho detto un violino ma questo è un liuto probabilmente non un violino anzi sicuramente un liuto un'altra cosa volevo dirvi che mi ero dimenticato prima quando ho parlato di Buder ma è meglio parlarne vedendo le immagini delle sue opere Buder era nella nella sua attività di artista di intarsiatore di pittore era uno studioso e un attento applicatore della legge della sezione aurea ecco sapete la sezione aurea adesso non faccio tutta la storia della sezione aurea ma è un numero praticamente che è il rapporto tra 1 e 0,618 che nella tradizione classica rappresentava l'armonia perfetta e Buder cerca di fare in parole semplici diciamo ogni segmento ecco veniva diviso in rapporto secondo questo rapporto tra 1 e 0,618 in parole molto 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 povere Buder applicava questa sezione aurea in modo quasi maniacale ecco nel distanziare gli oggetti uno dall'altro ecco nel disporre gli oggetti su un tavolo ecco anche nelle dimensioni delle sue opere delle sue tarsie delle sue tele cioè l'altezza e la larghezza applicava sempre questo rapporto 1 e 0,618 si racconta un episodio e in questo vi ricollego a Bartolomeo Sanguinetti di cui abbiamo parlato la volta scorsa un giorno questo lo racconta Bartolomeo Sanguinetti in uno scritto che ha lasciato ho una testimonianza adesso non ricordo Buder lo va a trovare nello studio va a trovare Bartolomeo Sanguinetti e vede nello studio di Buder un piccolo libricino dedicato interamente alla sezione aurea e glielo chiede in prestito passano 3, 4, 5 anni Sanguinetti naturalmente si dimentica di questo prestito si dimentica di questo piccolo libretto dopo alcuni anni sente bussare alla porta del suo studio e si trova davanti Luigi Buder che glielo riporta e gli dice ora l'ho imparato tutto questo per dirvi ecco che vedete che effettivamente questa tarsia che è la prima che vediamo ecco secondo me c'è una grande armonia compositiva tra gli oggetti che sono rappresentati ecco e qui comincia già a cominciamo già a riflettere ecco su questo aspetto apparentemente contraddittorio come un uomo così tormentato come vi dicevo era Buder così angosciato da questi fantasmi interiori così disturbato riesce a ritrovare questa armonia questa eleganza questo equilibrio nelle sue opere che cosa riesce veramente a fare andiamo avanti ecco vedete questa è un'altra tarsia ecco ritroviamo il lo strumento musicale tipico del suo repertorio e qui un altro libro e un'altra cosa che ritroveremo spesso nelle opere di Buder soprattutto nei dipinti la maschera vedete qui c'è una maschera dal volto un po' particolare un po' misterioso non si capisce che tipo di espressione abbia ecco una una forma la forma di un volto tondeggiante che richiama un po' forse la luna che sarà un altro dei motivi poi ricorrenti delle sue opere la maschera è un altro dei dei motivi che ritornano nella produzione di Buder un'altra cosa vi voglio dire Buder appunto lo si è detto in occasione di questa importante mostra che è stato fatto che è stata fatta nel 1998 a Palazzo Rocca è un artigiano e un artista ma è sempre lì sul confine tra l'artigiano e l'artista nel senso che come dire quando dovrebbe essere un artigiano diventa un artista quando dovrebbe essere un artista fa l'artigiano vi faccio un esempio nelle tarsie viene considerato la tarsia di solito viene considerata viene classificata nell'ambito dell'artigianato e la pittura nell'ambito dell'arte ora nell'ambito dell'artigianato vale il principio della riproducibilità cioè se ne possono fare diverse copie tutte uguali Buder non farà mai la stessa tarsia uguale all'altra le farà sempre diverse mentre nella pittura è capitato spesso che facesse lo stesso quadro quasi identico numerose volte questo per dirvi già un'altra particolarità del suo modo ecco di procedere dal punto di vista artistico nel suo modo di porsi comunque vi darò poi vedremo poi insieme altri esempi continuando a parlare di lui andiamo avanti ecco vedete qui abbiamo visto due cosiddette natura morte qui vediamo un paesaggio una tarsia scusate ma io non vedo più le immagini le vedete gli altri le vedono sì sì io le vedo però prima l'ho vista quella bella con lo strumento il vaso eccetera farfalla eccetera quello l'ho vista è piaciuta bene è lo stesso è uguale magari poi ritornano magari poi ritornano riesci di nuovo a vederle vedete qui c'è un paesaggio non so hai cliccato sulla d dove sull'icona dove c'è di lo dicevo alla signora di prima che non riesce a vedere io vedo la tua immagine ma di fianco dove ci sono i simboli dei partecipanti per condividere le immagini devi cliccare sull'icona dove c'è una d è la d di daniele è riuscita ho trovato da niente a di daniele però non succede niente ma non importa andate pure avanti hai giudato col dito non viene non viene niente no se è con la d non succede nulla però andate pure avanti è lo stesso se seguiamo poi magari ti tornano le immagini ricominci a vederle allora vedete grazie scusate prego figurati gli altri vedono sentono ok vedete qui abbiamo un paesaggio paesaggio molto particolare ci sono delle case un po fiabesche degli alberi stilizzati degli spazi molto geometrici sono atmosfere che sono state un po paragonate a certe atmosfere di de chirico e certe atmosfere di de chirico vedete che ci sono questi alberi stilizzati vi dicevo c'è questa invasione di luce di aria di luce c'è un particolare che vi voglio far notare vedete che sul sul muro della della casa centrale c'è un albero senza foglie è un particolare un po misterioso perché non si capisce se è l'ombra di un albero ma non credo perché non si vede quale sia l'albero che proietta quest'ombra non si capisce se è un rampicante perché mi sembra strano un rampicante assolutamente privo di foglie sembra quasi che sia qualcosa di disegnato sulla facciata della casa perché questi paesaggi sono paesaggi apparentemente realisti ma ci riportano per alcuni particolari in un'atmosfera anche un po irreale un po al di fuori del tempo perché vedete per esempio c'è l'assoluta mancanza di qualsiasi presenza umana le finestre sono tutte chiuse ci sono delle inferiate come finestre e non c'è anche intorno nei campi che circondano questo piccolo borgo non c'è nessuna presenza umana e nessuna traccia di presenza umana nessun panno steso nulla vediamo ancora alcuni particolari di questa di questa tarsia andiamo avanti ecco vedete tutto viene molto curato gli spazi sono divisi in modo molto geometrico questa è la c'è un angolo vedete in fondo dove si vede proprio uno spicchio di mare un triangolo e all'interno del mare c'è una vela ora nella immagine successiva c'è un ulteriore ingrandimento ecco vedete ma questo forse nella prima immagine che l'immagine completa della tarsia non l'avete quasi notato perché sono mondi un po tutti da scoprire c'è questa prospettiva in fondo ecco proprio in un angolo ma si apre un orizzonte vedete ecco qui si vede solo un borgo di case sembra di essere in campagna ma in realtà subito vicino c'è il mare vedete in fondo ecco c'è uno spicchio di mare si intravede una vela ecco vedete qui prevale un un disegno di tipo geometrico perché il mare è un triangolo la vela è un triangolo più piccolo nel triangolo più grande quindi c'è tutto uno studio per la realizzazione di questo e vedete anche qui i vari colori più bianco più chiaro più scuro ecco sono stati proprio creati attraverso l'utilizzo di una serie numerosissima di legni diversi come vi dicevo all'inizio questo è proprio il lavoro dell'intarsiatore e il principio attraverso il quale si realizzano le tassie andiamo avanti ecco qui c'è un paesaggio di mare e ci sono delle figure umane non le abbiamo ancora viste nelle tassie di prima ci sono delle figure umane una scena di pesca di un pescatore che tira arriva le reti aiutato da dalla moglie probabilmente vedete i particolari della rete guardate il particolare per esempio e dei calzoni del pescatore arrotolati intorno al polpaccio sotto il ginocchio sullo sfondo c'è questo paesaggio con le case anche queste molto geometriche con queste finestre con questi archi poi gli archi vedrete che ritorneranno in altre opere di buder anche qui ci sono guardate per esempio gli alberi con l'ombra dice un cipresso con l'ombra del cipresso sembra un disegno ma pensate che non lo è ecco è un mosaico di tessere di legno e di legni diversi andiamo avanti qui c'è una vedete questi in origine erano pannei erano decori che erano stati fatti intarsi che erano stati fatti appunto per una credenza sono stati poi tolti e messi così come quadri anche qui c'è una scena di pescatori che tirano arriva una rete ci sono delle barche delle vele c'è un albero sullo sfondo ci sono le stesse case di prima andiamo avanti ecco vedete qua c'è una tersia che è la compagna di quella precedente qui c'è ci sono tantissimi elementi pensate un lavoro enorme per realizzare una cosa del genere perché qui vedete viene descritto probabilmente l'affondamento di una di una nave un naufragio chissà forse la tragedia del nipote può darsi che lo abbia portato perché questo è un è un elemento che ritorna nelle trassie di buder queste scene di mare e di naufragi e anche il naufragio dell'andrea doria per il quale lui aveva realizzato una grande trassia quindi è un motivo questo che ritorna nel suo repertorio e c'è un naufragio e arriva ci sono delle persone c'è una figura che accende il fuoco c'è una figura che cerca di aprire il baule una tenda che è stata messa su ecco c'è una barca piccola barca che parte per andare a soccorrere una figura che a largo sta chiedendo soccorso ecco ci sono veramente tanti tante scene ecco non so se queste persone che sono arriva sono naufraghi superstiti che cercano di riorganizzarsi in qualche modo la vita o se sono gli abitanti della terraferma che hanno assistito a questo naufragio cercano in qualche modo di soccorrere che ancora si trova in vita comunque una scena molto animata molto ricca di particolari pensate a quanti e quali legni avrà dovuto usare per realizzare una cosa del genere pensate andiamo avanti ecco qui di nuovo questa è una tarsia molto molto ricca particolare c'è una scena di mare perché vedete che nella parte inferiore della tarsia si vede una figura che si tuffa c'è una spiaggia dove c'è un ombrellone con delle bagnanti c'è una barca con una persona che tiene un rimo in mano e poi nella parte superiore della tarsia c'è un altro mondo sembra che ci sia il mondo della campagna c'è una strada c'è una carrozza ci sono delle case ecco quindi vedete che anche qui buddha si ispira alla realtà ma in realtà realizza un paesaggio che non è reale perché diciamo c'è la spiaggia contemporaneamente vedete che ci sono sulla spiaggia dietro la tenda si intravede quasi una scena di caccia qualcuno su un cavallo con una lancia ecco metteva insieme proprio veramente tante tante suggestioni tante immagini tante scene nella stessa della stessa opera andiamo avanti questa è una scena più calma ecco anche qui guardate l'equilibrio compositivo che ritorna qui è una scena di mietitura abbiamo visto prima le scene di pesca qui siamo in un paesaggio rupestre in un paesaggio di campagna ecco ci sono i contadini ecco che tagliano il fieno vedete i covo i fasci di fieno ecco allora sullo sfondo vedete che ci sono queste costruzioni con queste finestre c'è una chiesa col campanile c'è un'altra costruzione con un ingresso fatto ad arco vedete anche qui guardate il gioco per esempio qui siamo in un paesaggio molto assolato ecco guardate il gioco delle ombre ogni figura umana lascia un'ombra specialmente quelle in primo piano tutto realizzato come vi ho detto prima e come non mi stanco di ripetere attraverso l'uso di legni diversi così pure il cielo vedete il cielo ci sono nuvole ci sono squarci di sereno più chiaro più scuro anche qui l'uso di legni diversi tantissimi tantissimi vediamo cosa c'è ora qui c'è una scena che è all'interno di un'osteria dove ci sono tutte queste figure intorno a un tavolo questa è sempre una tarsia vedete che ritornano alcuni elementi che abbiamo già trovato prima come il mandolino quindi lo strumento musicale molto importante per la musica molto importante per buder è un altro comensale tiene una fisarmonica c'è la bottiglia ci sono i bicchieri e c'è anche qui l'elemento un altro elemento che contraddistingue sia le tarsie che i quadri di buder è la presenza del quadro nel quadro vedete che appesa alla parete di quest'osteria c'è un quadro che sembra di vedere un effetto finestra ma non è una finestra in realtà è un quadro dove si vede uno di quei paesaggi che abbiamo visto precedentemente c'è un mare con delle vele ok sul secondo piano in questa trassia sulla vostra destra c'è il forno col pane che veniva sfornato vedete il semicerchio del forno anche qui ecco notate proprio le distanze il pavimento fatto così a strisce chiare scure ecco vi ricordate lui in tutto questo faceva sempre riferimento a quel discorso della sezione aurea che vi dicevo nessun distanziamento nessun personaggio nessun oggetto viene posizionato a caso ma attraverso proprio questo studio di proporzioni di misure di distanze proprio veramente meticoloso che buder fa andiamo avanti questa è una scena che rappresenta un episodio della vita di pinocchio perché lui aveva realizzato tutta una serie di tarsie attraverso le quali rappresentava il la vita di pinocchio io ne ho trovato una da farvi vedere una foto qui è pinocchio malato vedete pinocchio si trova a letto con la fata turchina vicino con i dottori il grillo parlante ecco vedete guardate anche il le decorazioni del tappeto la maestria con cui viene realizzato il tappeto che c'è vedete che pinocchio sembra proprio malato perché è affondato è ricoperto è affondato nelle coperte in questo letto ecco spunta solo il viso col naso e ce n'è tutta una serie ecco tutti gli episodi il gatto e la volpe il paese dei balocchi eccetera le realizzate tutte ora difficile ritrovarle tutte perché poi ecco sono disseminate in varie collezioni private però ha fatto anche questo tra le altre cose andiamo avanti qui mi spiace la foto non è rimasta molto bene però questa è una maternità e maria che non so se riuscite a distinguere bene nella foto ha tolto il bambino dalle fasce vedete che vicino alle mani di maria ci sono le fasce vuote perché lei ha tirato fuori il bimbo per curarlo e vicino ci sono le fasce e c'è questo volto di maria ci sono vedete sullo sfondo queste finestre fatte un po una specie di bifora ecco perché il motivo dell'arco è un altro motivo che ritorna e non amava molto lui fare soggetti religiosi o maternità amava più le nature morte i paesaggi le scene di caccia le scene di pesca le scene di campagna però l'ho voluta mettere perché probabilmente su commissione di qualcuno aveva realizzato anche questo naturalmente buder quando realizzava qualcosa che gli veniva commissionato un soggetto particolare lo realizzava come voleva lui qua se qualche comitente gli chiedeva di cambiare qualcosa lui non modificava nulla o prendere o lasciare era anche difficile avere a che fare con lui ecco nel senso che a volte certe persone che gli avevano commissionato delle tarsie o dei quadri avevano avuto delle discussioni perché magari volevano che mettessi un particolare o che ne togliesse uno prendere o lasciare lui così come realizzava un quadro quando veramente a volte ci metteva dei mesi anche perché e qui ritorna un po la problematica della sua personalità molto spesso ecco dice alcuni raccontano che hanno aspettato per mesi e mesi una tarsia da buder e quando gli ricordavano la commissione che gli avevano fatto lui diceva che aveva dovuto ricominciare da capo perché durante la notte i radieri gliel'avevano rovinata ecco questa era la spiegazione che molto spesso dava a chi si lamentava ecco un po di questo ritardo diceva l'ho cominciata ma durante la notte i radieri l'hanno rovinata e ho dovuto ricominciare da capo pensate che lui ecco sui balconi degli appartamenti dove aveva abitato aveva metteva tutto faceva tutto un reticolato con dei chiodi con del fil di ferro con dei chiodi proprio per evitare torniamo all'immagine precedente per favore ecco metteva dei chiodi perché diceva che in questo modo i radieri avevano più difficoltà ad entrare in casa e anche le radiazioni che questi gli mandavano avevano difficoltà per entrare in casa e a raggiungerlo ecco questo per dirvi ecco la personalità e la sofferenza che quest'uomo si portava dentro nonostante tutto realizzava questi capolavori realizzava questi capolavori adesso passiamo aspettiamo un attimo prima di passare alla slide successiva buder passa vedremo invece la pittura di buder e che riguarda gli ultimi anni della sua vita perché negli ultimi anni della sua vita che cosa gli succede gli succede incomincia a vederci meno naturalmente ci vede meno perché invecchia ecco perché diventa più anziano lui dice che per colpa dei radieri la vista gli era diminuita e quindi non riusciva più ad avere quella precisione nel taglio del legno nelle tessere del legno nella fiancare nell'incollare eccetera e non riusciva più a cimentarsi con l'arte della tarsia quindi passa alla pittura una pittura molto molto particolare che ora andremo a vedere perché gli esiti sono veramente singolari anche nell'ambito della pittura olio su tela quindi passiamo all'immagine successiva ecco vedete questo è un olio su tela di buder guardate che impatto cromatico fortissimo che abbiamo di fronte dunque il repertorio iconografico è simile a quello delle tarsie perché vedete che troviamo come vi dicevo le albicocche e la pera e l'uva l'avevamo già vista nella tarsia il tavolino dunque intanto i suoi colori sono molto forti molto accesi lui usa tantissimo i verdi i gialli i rossi e i blu vedete che l'uva è blu naturalmente i verdi sono di tipo diverso usa un modo di dare il colore molto molto particolare nel mo stende il colore in modo piatto in modo deciso per cui ottiene un effetto particolare sulla tela scompaiono scompaiono del tutto le tracce della pennellata quindi sono quadri assolutamente non materici se voi passate la mano sulla tela su queste tele avete una sensazione avete la sensazione di passare la mano su qualcosa di perfettamente liscio proprio perché il colore viene proprio steso in questo modo con grande uniformità con grande uniformità colori decisi colori forti ecco non c'è nessuna nessun colore che sfuma in un altro colore i confini tra un colore e l'altro vedete come sono netti come sono precisi come sono geometrici vedete questa è proprio una caratteristica della pittura di buddha ottiene un effetto attraverso questo tipo di pittura in cui si perde in gran parte a volte quasi del tutto la dimensione della profondità sembrano proprio ambienti e rappresentazioni come dire bidimensionali perché la profondità non c'è o si perde molto attraverso questo tipo di pittura comunque anche qui vi prego di notare proprio la proporzione il numero degli oggetti la disposizione ecco c'è tutto uno studio ecco di distanze di equilibri particolari molto particolari andiamo avanti ecco vedete i colori li ritrovate i gialli rossi e i verdi qui abbiamo nuovi oggetti che contraddistinguono il repertorio iconografico di buddha alcuni sono gli stessi come la bottiglia e la farfalla vedete la bottiglia la farfalla e poi qui ci sono questi oggetti particolari che ritornano in tantissimi quadri e anche in alcune tarsie che non abbiamo potuto vedere perché ne ha fatto centinaia e sono difficili da recuperare ecco e non si potevano vedere tutte alcuni oggetti che lui rappresenta molto spesso sono proprio le carte gli scacchi i dadi e le maschere come avevamo visto una maschera nella in una delle prime due tarsie che abbiamo visto ma qui in particolare troviamo le carte troviamo gli scacchi e sono oggetti fortemente simbolici perché rimandano a qualcosa di misterioso all'idea della sorte del destino della fortuna richiamano un po l'idea di qualche cosa di impenetrabile al mistero della vita a qualche cosa di misterioso che sta oltre le apparenze che potrebbe accadere ma che non si sa come se ci fosse un'altra dimensione ecco che c'è ma non ci è dato di conoscerla ecco per cui veramente questi sono simboli che ricorrono molto frequentemente guardate il cavallo che è una delle delle pedine degli scacchi c'è piccolo giallo sulla scacchiera e poi fuori della scacchiera lo vedete in verde più alto ecco qui ricorda un po non lo dico io ma lo condivido lo dice Gianfranco Zappettini in questo famoso articolo di presentazione della mostra di Buder ricorda un po certe atmosfere di De Chirico certe piazze di De Chirico non qui ci sono queste statue queste forme c'è un eco di questa metafisica no di questo aspetto metafisico ha avvertito e mi sembra lo si possa sostenere questo andiamo avanti vediamo degli altri motivi tipici di Buder ecco vedete qui ne vedremo ora due o tre dipinti simili ma questo era uno dei suoi soggetti preferiti ecco la figura femminile queste figure di afane sulla spiaggia durante la notte e vedete che sono quadri che si sviluppano intanto attraverso una dimensione orizzontale e attraverso delle fasce orizzontali perché c'è il drappo su cui si stende si siede la donna poi c'è la spiaggia che viene sempre resa attraverso il giallo poi c'è il mare che viene resa attraverso il verde e poi c'è questo blu questo azzurro questo blu intenso della notte e c'è la luna poi rosso c'è questa specie di cactus questa pianta sulla spiaggia ecco sono atmosfere che sono state giudicate io condivido questo giudizio atmosfere magiche di grande suggestione andiamo avanti ne vediamo un'altra simile ne ha fatte veramente tante ecco vedete qui c'è la donna in una posizione diversa ritroviamo le stesse fasce di colori il giallo della spiaggia il verde un po più carico un po più scuro del mare invece il cielo in questo un po più chiaro rispetto a quello precedente c'è la luna e poi c'è questa colomba che è come se idealmente ci fosse un filo che collega la mano di questa figura femminile con la luna e questo filo è simboleggiato dalla colomba vedete le figure di queste donne le i volti di queste donne sono volti un po misteriosi un po enigmatici un po indecifrabili sono queste espressioni non si capisce se sorridono se pensano se sono tristi sono espressioni molto intense ecco atmosfere veramente molto intense molto suggestive secondo me ne ha fatto veramente tanti di quadri con questo soggetto vi dicevo non riproduceva mai la stessa tarsia avrebbe potuto farlo perché eravamo nell'ambito dell'artigianato non lo faceva mai ogni tarsia era diversa dall'altra mentre invece lo stesso quadro ecco magari con qualche particolare qualche minima differenza lo faceva diverse volte credo che ci sia un'altra donna ancora da vedere qui siamo in verticale però vedete il modello ritorna questa volta vediamo la figura femminile non più di profilo ma la vediamo di fronte anche qui c'è una mano c'è una colomba che sta per per posarsi sulla mano qui siamo in verticale ricordate che ci sono sempre le proporzioni della sezione aurea tra base altezza del dipinto e anche nei rapporti interni vedete abbiamo sempre la stessa scansione comunque la spiaggia gialla il mare verde e il cielo blu notte vedete queste donne sono donne ma sembrano quasi non so delle divinità perché le espressioni sono veramente impenetrabili e un po indecifrabili di fronte a questi dipinti qualcuno un po curioso un po malignamente curioso aveva chiesto a buder se aveva avuto delle modelle che si erano prestate per permettergli di dipingere questi quadri e lui ogni volta rispondeva che modelle non ne ha mai avuto ma che al cinema centrale aveva visto qualche volta delle donne nude e quindi ispirandosi a queste aveva riprodotto queste figure in questi in questi quadri dove c'è la figura femminile bene secondo me sono veramente molto belli quindi abbiamo un altro vedete una donna stesa sul letto eh l'atmosfera è sempre quella della notte anche se c'è questa esplosione di colori vedete che tornano rosso giallo l'azzurro il verde della coperta e qui ritorna quello che vi avevo detto a proposito di una tarsia il quadro nel quadro vedete qui abbiamo due quadri un quadro giallo dove si vede solo un disegno e poi sopra la testiera del letto dove è coricata la figura femminile c'è un quadro questa volta astratto vi ricordate che vi avevo detto che buder si mantiene lontano dalle correnti artistiche degli anni 50 60 70 allora andavano in voga la pop art il concettuale l'arte analitica eccetera però conosce i pittori del mac vi ricordate che vi avevo parlato del mac come una forma di astratismo geometrico e guardate questo ritorna per esempio nel quadro che vedete disegnato sopra la testiera del letto perché ci sono con gli stessi colori tipici di buder delle forme geometriche vedete dei semicerchi delle porzioni di circonferenza delle porzioni di cent degli archi di circonferenza delle porzioni di cerchio ecco chissà forse lì ecco l'influenza di questo mac ogni tanto faceva capolino e in questo quadro per esempio la ritroviamo capiamo che è notte attraverso il blu scuro che vediamo dalla finestra bene andiamo avanti le maschere le maschere sono un'altra cosa come vi dicevo tipica della della iconografia di buder qui c'è un arlecchino che suona un violino quindi maschere e violini vedete anche la maschera così come gli scacchi le carte è un è qualcosa di fortemente simbolico perché la maschera richiama un po il discorso dell'identità nascosta della doppia identità di ciò che è apparente e di ciò che è reale di quello che si vede di quello che è nascosto ecco quindi pensate a tutto quel mondo angosciante interiore ecco di buder e quindi probabilmente veniva fuori qualcosa attraverso la scelta di questi oggetti e di questi soggetti dei suoi quadri ecco però sono sempre composizioni molto equilibrate molto armoniose ecco guardate la precisione del del vestito dell'arlecchino no questi scacchi questa diciamo questa scacchiera nel vestito gialla e nera così come il tappeto rosso e grigio ecco e e sullo sfondo vedete la tenda verde i colori repertorio cromatico ritorna è chiaro il giallo il rosso il verde andiamo avanti che dovrebbe esserci un'altra figura un altro arlecchino vedete è è è è